Benvenuti a Fatti e Commenti, la rassegna stampa serale di TVRS. Notizie e approfondimenti assieme a due ospiti. Nella prima parte con noi Laura Biagiotti, Presidente Ordine degli Infermieri di Pesaro Urbino, nonché consigliera comunale in una lista di maggioranza a Pesaro. Buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera. Cominciamo dando uno sguardo ai siti internet con il nostro portale utvrs.it e vediamo che in primo piano c'è una notizia di cronaca del primissimo pomeriggio dove si parla di una bimba di tre anni precipitata dalla finestra e atterrata su una sedia. Salva per miracolo. Siamo a Chiaravalle in via Martiri della Libertà. Intorno alle 13 una bimba marocchina è precipitata dalla finestra di casa. Si sarebbe arrampicata sulla finestra e sporgendosi un po' troppo avrebbe perso l'equilibrio facendo un volo nel vuoto di circa tre metri. La bimba è salva per miracolo perché è caduta sopra una sedia di plastica che si trovava proprio sotto la finestra tutendo la caduta. Allertati naturalmente i genitori e la croce gialla di Chiaravalle, l'automedica di Ancona e Icaro. La bambina è stata trasportata con un codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Salensi. Per fortuna non avrebbe riportato gravi lesioni. E poi si lavora naturalmente per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto. Altra notizia di oggi, vediamo di spalla l'incendio in autostrada avvenuto tra Pesaro e Fano questa mattina intorno alle 10 molto fumo per un tir in fiamme. Dal chilometro 107.9 si forma la coda verso sud. Problemi in A14 e appunto poco dopo le 10 un tir ha preso fuoco. Grande paura per l'autista che è riuscito a mettersi in salvo ma immagini davvero spaventose con questo fumo altissimo. Fiamme divampate e appunto l'aria piena di fumo. Coinvolto il tratto torostradale in direzione sud si è creata una coda di circa un chilometro. E passiamo per il momento al sito dell'Ansa Marche dove si parla dello sciopero. Un tema che riprenderemo con la nostra ospite. Ricci, il sindaco di Pesaro, dice giorni gravi per democrazia del nostro paese. Sono tante le ragioni per essere in piazza oggi. Abbiamo dinanzi una legge di bilancio fragile dal punto di vista della crescita criticata dalle parti sociali e dalle associazioni di categoria che taglia fondi necessari alle categorie più deboli. Così appunto Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci DEM, presidente di Alia Autonomie Locali Italiane, è stato in piazza Lazzarini questa mattina a Pesaro. C'eravamo anche noi con un nostro servizio e un nostro inviato naturalmente per il telegiornale. Ci sono state cinque manifestazioni nelle Marche promosse da CGL e UIL. Ripeto, poi riprenderemo l'argomento. Oltre allo sciopero si parla anche sull'Ansa dell'incendio, del mezzo pesante. E poi cambiamo portale sul Corriere Adriatico, uno sguardo ai titoli. Si parla della bomba, un allarme di questa mattina sia a Pesaro che a Urbino. Chiusi due tribunali e tutte le strade, quattro ore con il fiato sospeso. Un allarme bomba è stata chiusa via Raffello. Attimi di paura, poi per fortuna il peggio è stato scongiurato. E cambiando provincia, ad Ancona, metro di superficie, primo step e Silvetti, il sindaco, la fa inserire nel Pums. L'opera era sparita dai radar. Infine a Macerata gli strappa l'orologio dal polso, mentre passeggia al parco, rapina shock a Civitanova. Sempre questi episodi di vandalismo e non solo la sicurezza. È sempre uno dei temi caldissimi anche della nostra rassegna stampa. Adesso veniamo subito dalla dottoressa Biagiotti. Sì, io mi concentro su di lei. Il focus questa sera è la sanità. Il taglio delle pensioni future degli infermieri, innanzitutto, perdite monetarie fra il 5 e il 25%, con ricadute pesanti sul comparto salute. Sì, ha detto bene. Siamo veramente dispiaciuti. Rappresento una categoria che sono gli infermieri, quelli che fino a ieri abbiamo chiamato eroi nel nostro paese. E oggi ci troviamo, in realtà, inaspettatamente, ci ritroviamo con un taglio pensionistico. Ma la cosa strana che ci fa riflettere è che va a colpire una fascia ben precisa di queste persone. Andiamo a vedere più o meno le persone che hanno iniziato a lavorare negli anni 90 in sanità, a ritroso dei 15 anni. Quindi significa che chi ha un quindicennio di lavoro prima del 1995 andrà a essere penalizzato nell'aliquota del calcolo per la pensione. Beh, in effetti questo ha portato non poco stupore, tanto che ancora alcuni sono increduli e dicono addirittura che è una cosa che non verrà fatta, impossibile, perché colpire proprio la nostra fascia e colpire questa professione in particolare, non solo perché colpisce tutte le professioni sanitarie, dai medici ai tecnici di laboratorio, agli assistenti sanitari, fisioterapisti sicuramente, ma non solo perché sappiamo bene che colpisce tutti i dipendenti del pubblico impiego. Ma a che scopo? Per poter prendere dei soldi che poi, non so, a fine anno ci dicono che ci daranno un bonus, ma il bonus è già mio perché me l'avrete tolto sicuramente nell'aliquota del conteggio che andrete a fare per i nostri conteggi pensionistici. Un altro aspetto importante è che ci sarà una fuga dagli ospedali, perché è inevitabile, immagino, non certo una persona che ha iniziato nel 1995, 1993, 1997, che ancora gli manca diversi anni, ma chi è comunque in una fase di uno o due anni tenderà ad andarsene, ma anche prima, perché non conviene rimanere, perché il calcolo pensionistico gli porterà via soldi dalla busta paga. Quindi credo che sia una cosa veramente, una cosa su cui non ci si crede, obiettivamente. Come dice, bisogna evitare lo svuotamento delle strutture, nonostante ci sia poi carenza di personale. Esatto, perché la carenza è notevole, anche se è importante dire che la carenza, è vero che c'è, c'è perché dicono che non ci sono infermieri in questo caso, oppure medici. Non lo mettiamo in dubbio. A livello nazionale la crisi del nostro apparato professionale, medico, infermieristico, c'è. Siamo in meno rispetto a quello che necessitano realmente, però è anche vero che le nostre figure infermieristiche che andiamo a laureare nella nostra regione, nella nostra provincia, non li assumiamo. Basti pensare che solo entro la fine di novembre, solo a Pesaro si laureano 44 infermieri e non potranno assolutamente partecipare al bando di selezione messo. Poi ci torniamo su questo. Rimaniamo un attimo su questo discorso delle pensioni, perché chi potrà a queste condizioni correrà inevitabilmente al pre-pensionamento entro l'anno. Sicuramente, perché è un qualcosa che a livello di calcolo dell'aliquota pensionistica ti conviene comunque andare in pensione rispetto a rimanere. Quindi è inevitabile che ci sarà la corsa sicuramente ad andare a fare i calcoli e sicuramente vedremo perdere notevolmente un numero maggiore di infermieri, ma anche molti medici. Io sento già nelle corsie molti primari che dicono che lasceranno. Pensione, mancata assunzione di risorse umane, è un momento caldo. Per andare all'estero non si vuole investire sulla sanità. Esatto. E pensare che l'infermiere è l'anello fondamentale nel percorso di cura ospedaliero ed extra ospedaliero. Fondamentale il territorio. Beh, come avevo iniziato a accennare prima, gli infermieri noi nella nostra provincia, nonché nella nostra regione, nella nostra Università Politecnica delle Marche, li portiamo fuori, ci sono, sforniamo infermieri, ma non vengono attualmente subito assunti. Ed è normale che un neolaureato, appena viene assunto, va a trovare lavoro perché ha bisogno comunque di uno stipendio. E lo va a trovare altrove. È inutile sentirmi dire, ma facciamo un concorso che scade il 5 ottobre perché comunque andremo a prendere i laureati di aprile. Non ci sono più i laureati di aprile e quelli che sono andati fuori hanno già probabilmente trovato una situazione che gli compiace, stanno bene, si fidanzano, trovano la loro strada fuori da qui, mettono su famiglia, non rientrano. Sono pochissimi quelli che verranno. E poi ci sentiamo dire che la gente non aderisce quando chiamiamo dalle nostre liste, le nostre graduatorie. È normale, hanno già trovato una loro posizione altrove. Si è parlato anche di riduzione di fondi, compresi quelli per i disabili. Sì, anche questo è un altro tasto molto dolente perché la riduzione del fondo per i disabili dimostra proprio che siamo veramente, navighiamo a vista perché ridurre un fondo che parla proprio già etimologicamente il disabile dimostra che è incomprensibile la situazione. Immaginate la riduzione di quei sostegni alle famiglie che a tutt'oggi aiutano quelle famiglie che vengono sgravate ad esempio durante la giornata del proprio disabile cercando di metterli in delle strutture giornaliere, diurne, oppure il sostegno ai bambini durante il periodo dell'obbligo della scolarità. Cioè la disabilità è una roba comunque grandissima e venirmi a dire che è una convenienza, quando sento parlare la ministra che dice che è una convenienza, devo capire che tipo di convenienza sia perché dice andremo a snellire i percorsi. Cioè in che senso? Cioè obiettivamente vedo tante parole ma poca concretezza per capire come sono le procedure nei propri comuni. Ah sì. Torniamo ora alle notizie dai siti, andiamo su Cronache Maceratesi dove vediamo le notizie in alto. Ad esempio andiamo su gli alloggi. Alloggi ha visso 8 nuove case popolari. L'Erap mette sul piatto 590 mila euro, progetto finanziato in parte con il PNRR e in parte dall'ente. Il presidente Statornino di Ruscio dice che questi alloggi contribuiscono all'efficacia delle politiche messi a punto dalla Giunta regionale per ripopolare le aree interne delle Marche. Questa è una buona notizia. 8 nuove case popolari ha visso. Appunto le realizzerà l'Erap Marche destinatario di un fondo PNRR Pinqua in qualità di soggetto coattuatore con il comune di Visso che è il soggetto attuatore che prevede oltre alla realizzazione di 8 alloggi anche la realizzazione di un edificio a servizio delle SAE e la sistemazione di aree pubbliche esterne. Poi per tutti i particolari vi invitiamo naturalmente a consultare i siti internet e leggere gli articoli completi. E poi ancora una notizia di oggi di cronaca fermato al posto di blocco dalla patente di un familiare in auto. Trovate, pensate, 80 kg di rame rubato. Un uomo a Belforte di 40 anni che lavora nei cantieri della ricostruzione aveva anche con sé 2 grammi di ascice e una dosi di cocaina. È stato denunciato per ricettazione, false dichiarazioni e attestazioni a pubblico ufficiale e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti alla guida. Gli è stata naturalmente ritirata la patente. È successo ieri pomeriggio e ne abbiamo parlato anche nei nostri notiziari. Dopo cronache maceratesi andiamo sulla provincia di Pesaro Urbino con Vivere Pesaro. Vediamo che si parla di sport anche con la Megabox che partecipa domani alla colletta alimentare. Giornata appunto del Banco Alimentare come protagonista. Ci sono 14 mila supermercati in Italia che aderiscono a questa iniziativa. Quindi andate a donare. Parteciperanno anche gli atleti della Megabox Vallefoglia di Pallavolo ma anche tanti altri sportivi come i ragazzi della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e non solo. In questo caso le ragazze della Pallavolo saranno a Vallefoglia proprio a spingere, a invitare, a sensibilizzare le persone, a donare quanti più prodotti alimentari possibili. E da Vivere Pesaro passiamo a Riviera oggi per vedere cosa succede appunto in questo caso al sud delle Marche. In primo piano, cronache del Fermano, i carabinieri e la Guardia di Finanza sottopongono a sequestro un'officina abusiva e tutte le sue attrezzature. Il responsabile deferito alla Procura della Repubblica è sottoposto a sanzioni amministrative. Andiamo all'interno. Un'operazione di servizio portata a termine appunto grazie alla collaborazione dei militari, dei comandi provinciali dei carabinieri e Guardia di Finanza di Fermo ha consentito di svelare l'esistenza di una ufficina di autoriparazione allestita all'interno di un fabbricato privato operante senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. Sono state violate norme di carattere amministrativo e tributario e tutto questo rappresenta una concreta minaccia per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle biodiversità. E ancora tanto sport con il calcio e l'incendio in A14, appunto un mezzo pesante, traffico in tilt come abbiamo visto in precedenza. Torniamo da Laura Biagiotti. Dottoressa, un altro problema, lo ha accennato prima, i medici laureati nelle Marche vanno altrove e insieme il bando per gli infermieri è scaduto a ottobre scorso non tenendo minimamente conto delle lauree imminenti di novembre e dicembre. Esatto, è stato anche richiesto la riapertura della scadenza del bando eppure sembra che non sia stato possibile. Però questo è un quesito che abbiamo posto anche al nostro assessore regionale, però sembra che non vogliono assumere perché è inevitabile che le domande che ci saranno non saranno tali da poter realmente assumere perché queste persone che si laureranno dopo la scadenza del bando inevitabilmente andranno fuori regione e non solo, ho già alcuni futuri laureanti che mi hanno contattato all'ordine per chiedermi quali siano le procedure per poter andare a lavorare all'estero. C'è fermento e oggi c'è stato uno sciopero di alcune sigle sindacali, come abbiamo visto anche sui siti ce ne sarà un altro domani e uno il 5 dicembre, incroceranno le braccia i medici direi che il malcontento è sentito, è diffuso. Il malcontento, come ho ribadito fino adesso, è altissimo sinceramente perché stipendi bassi, perché è inutile dirlo professioni conseguiti dopo lauree, corsi di formazione su corsi di formazione obbligatori non tutti comunque passati dalle aziende e strutture pubbliche ma anche pagati personalmente dagli operatori stessi e poi ci vediamo ridurre il calcolo pensionistico la liquida dove andremo a calcolare la pensione viene ridotta perché così può essere un fondo per impinguare le casse dello Stato però non è giusto se fino a ieri mi hai considerato un eroe o comunque hai visto la necessità di queste professioni quanto è importante sapere essere preparati su questi ambienti sanitari che comunque rispondono alle esigenze nostre, della nostra salute, dei nostri cittadini e vai a prendere soldi proprio da queste persone penso che sia un paradosso quasi impossibile da credere Oggi eravate in tanti nelle piazze, non solo voi come categoria naturalmente però ci siete fatti sentire Sì, CGL e Will sono scesi in piazza naturalmente non è facile perché non ci permettono mai grandi movimenti di scioperi come avrete visto però molti colleghi hanno aderito soprattutto chi non era precettato e c'è stata secondo me una grande affluenza una grande risposta perché ripeto per noi fare sciopero comunque è una riduzione già dei soldi, dello stipendio che già ripeto sono già difficili i momenti sappiamo bene il caro vita e quanto sia importante anche non perdere 50 euro Che cosa chiedete in primis? Che cosa chiederete? Diciamo un paio di punti importanti I punti importanti sono sicuramente rivedere in primis eliminare quest'ipotesi di riduzione della liquida del calcolo pensionistico per la fascia di chi è stato assunto negli anni 90 e soprattutto cercare di rivedere assolutamente una buona contrattazione collettiva nazionale dove rivedano comunque proprio gli stipendi tabellari di tutti questi dipendenti perché è veramente uno dei stipendi più bassi a livello europeo e non solo Come si può realizzare un sistema di rete territoriale prevista dal piano socio-sanitario senza assunzioni? Esatto, questa è una bella riflessione fa anche riflettere perché il vecchio piano socio-sanitario regionale 2020-2023 già prevedeva comunque delle strutture già territoriali la rete territoriale, già si comprendeva nel periodo della pandemia e quindi già con tutta la normativa dopo dal PNRR va bene ma anche molto prima già dal 2020 comunque si prevedeva un territorio capillare di assistenza perché è la cosa fondamentale rimettere in piedi i distretti ma rimettere in piedi le case delle comunità ripartire con questi centri operativi ripartire con gli infermieri di famiglia che andranno a integrare tutto il lavoro sul territorio ma rimane a tutt'oggi, dal 2020 adesso vedremo con gli obiettivi fino al nuovo piano socio-sanitario regionale 2025 quello che metteremo in campo ma non ci sono assunzioni e se non ci sono assunzioni non c'è il periodo comunque di formazione e di organizzazione è un po' difficile comprendere come si possa realizzare però non ci lamentiamo dopo che ci sono gli accessi inappropriati al pronto soccorso perché la gente, la cittadinanza, dove va? Chi risponde alle sue necessità? Eh sì, ha accennato ai medici di famiglia pensiamo anche appunto agli infermieri di famiglia agli infermieri di famiglia che andrà sicuramente dovrebbe, per leggerlo, dovrebbe essere già stato fatto però speriamo nella nuova applicazione del nuovo piano socio-sanitario regionale dovrebbero andare a supportare anche il lavoro di un medico di famiglia che oggi sappiamo che è notevole perché comunque hanno un carico di lavoro territoriale altissimo e il supporto di multiprofessionale di diverse professioni dove comprende anche l'infermiera di famiglia andrà sicuramente a dare quelle risposte importanti, sanitarie, di prevenzioni, di riabilitazioni, di screening che necessita un cittadino per non dover accedere per forza al pronto soccorso Lei spinge su questi argomenti anche in consiglio comunale immagino? Sì, spingo sempre su queste cose ma perché ritengo che siano fondamentali che facciano parte della famiglia delle problematiche sociali immaginate la rete socio-sanitaria sul territorio io vivo l'attività ospedaliera tutti i giorni e quindi vedo le difficoltà che hanno i cittadini le difficoltà del prendere una prenotazione le difficoltà di capire cosa significa essere presi in carico le difficoltà di chi ha una patologia cronica le difficoltà dei caregiver, delle famiglie le difficoltà ci sono e non ci se ne rende conto fin quanto non capitano nelle proprie famiglie in prima persona Siete molto sotto la lente di ingrandimento come categoria in questo momento Sì, lo eravamo anche nel periodo della pandemia E non c'è andata bene Il risultato è questo Forse sarebbe bene esserlo un pochino di meno però avere dei risultati positivi perché è inutile dire bravi tutti i cavalieri siamo diventati non lo dimentichiamo ma se essere cavaliere è la riduzione dei stipendi o comunque della liquida pensionistica penso che non sia tanto conveniente essere così elogiati È vero, è vero Bene, io la ringrazio Presidente Eccola Erabia Giotti Presidente appunto Ordine degli Infermieri di Pesaro Urbino Grazie tante per la sua presenza e alla prossima Grazie, grazie Buona serata Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo un po' di pubblicità per la seconda parte della rassegna stampa Fatti e commenti con un nuovo ospite A tra poco